Nel cuore della cronaca nera, la storia di Filippo Turetta e Alberto Scagni cattura l'attenzione dell'Italia. La sentenza è implacabile, come un'ombra che non si può sfuggire, l'ex, la condanna, la legge. Turetta, il giovane più ricercato, ha visto le manette chiudersi attorno a lui dopo una fuga di oltre una settimana, un tragico epilogo alla tragica fine della sua ex fidanzata Giulia Cichettin. Ma la drammaticità non si arresta qui. Alberto Scagni, il protagonista di un oscuro primo maggio a Genova in cui ha tolto la vita alla propria sorella Alice, si ritrova ora a scontare una pena di 24 anni e 6 mesi. Tuttavia, la prigione riserva un capitolo ancora più cupo, la notizia dell'aggressione subita da Scagni da parte di due detenuti magrebini nella sua cella al penitenziario Sanremese, sezione detenuti protetti. Un episodio che ha scosso le fondamenta della sicurezza carceraria. I sindacati della polizia penitenziaria, Sap e Will, hanno denunciato l'aggressione, descrivendo uno. Scenario in cui Scagni è stato picchiato e sequestrato dai suoi aguzzini, mentre era tenuto sotto minaccia e chiuso in bagno insieme a un altro detenuto italiano nel padiglione Z. Le immagini di un tentativo di omicidio sventato solo dall'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, su ordine del magistrato di turno, dipingono un quadro inquietante. Si svela un piano apparentemente orchestrato da detenuti ubriachi, desiderosi di eliminare Scagni. In una sequenza da film, la polizia penitenziaria entra in azione con determinazione, salvando Scagni da conseguenze potenzialmente catastrofiche. Per i due detenuti responsabili, le manette scattano per tentato omicidio e sequestro di persona. La prigione, teatro di tragedie umane e dramma quotidiano, ancora una volta pone sotto i riflettori l'urgente necessità di riforme nel sistema carcerario italiano.